Buongiorno, come potrete vedere questo... oh, meglio sentire... questo vlog è in italiano. Perché sto vloggando in italiano? Perché ho messo una... Ah, non mi viene il nome... Comunque su Instagram Stories vi ho chiesto se vi sarebbe piaciuto, se vi sarebbe potuto piacere un video, un vlog in italiano e la maggior parte di voi ha detto sì, per questo... Yeee! Mi stanno chiamando... Sono le 8-10, io devo muovermi, devo proprio muovermi, perché è tardissimo e ultimamente... di solito mi danno un passaggio ultimamente invece vado a piedi, mi piace camminare la mattina per cui non so perché, considerando la mia pigraggine ma ultimamente mi sta piaciendo un sacco andare a piedi appunto e quindi niente, devo finire di truccarmi e... devo lavare i denti e poi sono prontissima! Ehi, sono appena tornata a casa sono rientrata un paio di orette prima perché non mi sentivo bene quindi... causa ciclo quindi... sono un po' a pezzi tra poco pranzo e il mio papi mi fa i tortellini in brodo quindi... tutto quello che vorrei fare ora è stendermi un pochino rilassarmi un po' con la borsa dell'acqua calda sul pancino starmi era un po' tranquilla e... niente grazie a tutti Grazie a tutti. Tutto bonito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi domattina se riesco mi giro un video per domenica. E niente, io mi dispiace che questo sia stato un vlog veramente noioso, però dai è stato il mio primo in italiano. E niente, io chiuderei il vlog qui. Fatemi sapere se vi è piaciuto sentirmi parlare in italiano, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e... E niente, buonanotte. Non so come chiudere. Ci vediamo domenica. Niente. Ciao. 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 Ciao.